Allora ragazzi, ecco qua, utilizzo il Photo Finish di Catrice, la colorazione che ho è il 10, Sand Beige, e lo applico con questo pennello piatto per fondotinta di Vichy. Grazie a tutti. Allora ragazzi, questo qua è il risultato del fondotinta senza ancora l'applicazione del correttore. Ha una media coprenza, ovviamente non è molto coprente, però è molto buono perché non lucida, non rende lucida, non diventa lucida neanche durante la giornata. Allora, onestamente, quando ho preso il Photo Finish ero un pochino scettica perché ho paura che non fosse particolarmente buono, particolarmente resistente. Invece no, resiste bene tutta la giornata. Io lo applico, poi metto il correttore e poi metto la cipra trasparente in modo da farlo rimanere ancora più fisso, è buono. L'odore è l'odore delle salviettine umidificate dei bambini, per capirci. Ha un prezzo veramente basso, come quelli della Essence, però io trovo che i fondotinta della Essence non siano di buona qualità, mentre questi qua della Catrice sì, soprattutto questo qua, il Photo Finish Liquid Foundation, 18 ore, è veramente, veramente buono. Quindi io ve lo straconsiglio, il risultato è questo, poi basta applicare un pochino di correttore dove serve, insomma, ed è buonissimo. Spero che questa review vi sia utile, fatemi sapere, fatemi domande e sarò felice di rispondervi. Ciao!